Sushi, Atom, Phantom, Polygonmatic e Bitcoin, queste sono le 5 criptovalute che sono uscite fuori dalla live di ieri, Avengers Crypto, i Crypto Avengers con la special guest finale di Daniele Sesta, il chef Wonderland, che è entrato e ci ha dato queste chicche secondo lui, quelle che sono le sue preferite, quelle che secondo lui possono fare i botti anche per il prossimo anno, allora oggi andiamo a vedere queste 5 criptovalute, mi viene strano definire Bitcoin a crypto ma è così, allora queste 5 criptovalute le andiamo a vedere, qual è la struttura grafica al di là dell'idea generale, dico che fanno i botti, come possiamo andare ad agire, quindi quali sono i livelli di ingresso, perché comunque a prescindere, trend is your friend, a prescindere dalle varie idee generali, quindi è sempre bene andare a seguire il trend quando inverte e non anticiparlo, perché magari poi le cose non vanno come sperato, le andiamo a vedere, facciamo le analisi, queste 5 criptovalute, vediamo un po' che cosa succederà nei prossimi mesi, se veramente faranno i botti, saremo a cavallo, vi dico già da subito che 3 di queste già oggi stanno facendo grandi numeri, una ovviamente Poligon Matic, ma Poligon l'abbiamo già trattata in tutto il mese perché è la mia coin preferita degli ultimi due mesi, e niente ragazzi, that's it, ci siamo, allora prima di andare avanti, vi faccio vedere i grafici, ma andate a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, lasciatemi i pollicioni ragazzi per questi video, sempre in real time, io da oggi sono in ferie, quindi farò lo stesso qualche videuccio ragazzi, ovviamente ci aggiorniamo, facciamo delle belle cose insieme, ma è Natale, quindi Natale in family, va bene, allora, queste le coin già le ho messe qui, la prima sushi ragazzi, ero short fino all'altro giorno, ho chiuso proprio nella giornata di ieri, semplicemente perché sushi è andata vicino a dei livelli di resistenza troppo troppo pericolosi per tenere una posizione in short selling, quindi l'ho chiusa proprio ieri, allora, andiamo a capire, intanto, Daniele ha parlato molto bene anche di questa, scritto nella live Crypto Avengers di ieri, dicendo siamo ai minimi sotto qui, dove si va, questo è il grafico contro Bitcoin, come sempre andiamo a vedere queste crypto contro Bitcoin, non ha senso guardarle contro USDT, perché altrimenti ci teniamo Bitcoin, soprattutto per progetti di questo tipo, però quello che possiamo vedere intanto è un'analisi abbastanza evidente del trend di medio-lungo periodo di sushi, che è assolutamente ribassista, ora la questione è questo trend che vediamo essere in atto da febbraio, quindi un intero anno al ribasso più o meno una cosa del genere, potrà invertire nel prossimo anno, nel 2022 ragazzi, potrà fare una cosa del genere iniziale magari un'altra fase, impostiamoci subito quelli che sono intanto i livelli di supporto e le resistenze su questa criptovaluta, primo livello importantissimo, aria ragazzi, allora intanto è una cosa che vi già anticipo, queste sono cripto un po' particolari, estremamente volatili, a parte Bitcoin che lo vedremo alla fine del video, ma sono criptovalute che hanno necessità comunque di avere molta attenzione, di fare molta attenzione, soprattutto di utilizzare eventuali stop se non volete perdere molto capitale, oppure andarle a tradare o a investirci con del capitale che pensate tranquillamente di poter lasciare al mercato, quindi perdere completamente, ricordate queste cose, non sono costi finanziari come sempre, facciamo analisi grafica e cerchiamo di capire se un'informazione tecnica può dare un vantaggio, anche competitivo a chi poi va a fare operazioni diciamo in base a idea. Allora questa è una zona ragazzi, non andate a considerare dei livelli statici, livelli su queste criptovalute contro Bitcoin perché la volatilità è molto ampia, quindi bisogna sempre considerare queste zone. Allora prima, scuso 0, 18,08 in questo caso, quindi quest'area qui, 18,10, 18 è un'area di primo livello di resistenza, la indicheremo con il verdino. Andiamo poi a vedere quali sono gli altri eventuali livelli, un altro è questo, scuso 0,27,5 e poi abbiamo altri livelli di resistenza che sono molto più alti, 34,5 e poi i successivi che secondo me possiamo indicare come una zona di eventuali massimi storici, anche perché questi spike ragazzi su queste cripto hanno veramente pochissimo senso, in quanto sono dovuti a fasi momentanei, magari degli acquisti che non erano coperti da un order book adeguato, hanno dato questo tipo di spike. Quindi questi livelli comunque altissimi la differenza, infatti già solo andare a vedere la differenza di prezzo fra il primo livello e il secondo sono il 150%. Allora sta cambiando qualcosa su Sushi perché in effetti se va a delinearsi un nuovo stile di gestione di questa cripto, ovviamente potrebbero cambiare delle cose. Andiamo a vedere invece qual è il livello di supporto principale per quanto riguarda questo token. Il primo livello di supporto è l'ultimo minimo, quindi 0, no, escluso 0, 95, 96. Poi al di sotto ci sono ancora dei livelli di supporto e c'è quest'area, quindi 73, sempre escluso 0, e poi sempre su Bitcoin e poi il finale minimo storico, escluso 0, 3, 1, 4, quindi veramente molto molto basso. Considerate che il livello da questa area fino all'ultimo minimo è un meno 75%. Ecco perché vi sto dicendo che queste cripto vanno mangiate con cura. Allora andiamo a vedere nel breve come si fa a dire, ok, questa cripto ci crediamo, pensiamo che quello che è uscito fuori dalla live ieri potrebbe essere interessante, andiamo a capire come entrare su questo cavallo. Questo è un trend fortemente ribassista, quindi andarlo ad anticipare è pericolosissimo, però essendo che è veramente tanto a ribasso non serve anticiparlo, perché anche entrare a breakout va benissimo, in quanto comunque la strada eventuale da percorrere, soprattutto se, insomma, cambia radicalmente il modo in cui si gestisce l'exchange sushi, insomma, tutta la struttura dei file di sushi, eccetera, allora non ci sono problemi sicuramente di oscillazioni, di pochi punti percentuali, quindi non è quella l'idea. Questo è un classico triangolo, ragazzi, una figura evidentissima di tecnicamente ridistribuzione, in questo caso per poi eventualmente crashare nuovamente. Allora, questo è quello che ci dice la figurazione di analisi tecnica, quindi ci dice che questo ribasso potrebbe non essere finito, però è anche vero che il triangolo in questione potrebbe anche essere un sinonimo di inversione del trend. Andiamolo a vedere in maniera molto semplice. Allora, questo è la struttura del triangolo, quindi se e qualora il mercato dovesse breccare questa fase, e soprattutto vi dico nel breve, io oltre al triangolo che non mi piace molto come figura, vado anche a inserire quest'altra struttura, che secondo me è più importante, quindi sopra 13 e, scusate, 13-20 per quanto riguarda Bitcoin, potrebbe indicare un buy, una cosa, scusate ragazzi, una cosa di questo tipo, quindi con un buy indicato qui. Questo ovviamente prima di anticipare il mercato, preferisco sempre avere qualche tipo di analisi e qualche tipo di messaggio da parte del mercato per anticipare. Va bene, allora Sushi l'abbiamo vista, andiamo a vedere Atom, la seconda coin di oggi, vediamo che cosa sta facendo già, come vi anticipavo, Atom, che veramente insomma è una coin che soffre tantissimo Cosmos, comunque in ogni caso è un progetto molto valido, e che soprattutto da un punto di vista progettuale sta dando un buon risultato. Non mi dispiace questa che ha detto, perché ha anche una struttura abbastanza evidente, la famosa coppa, la tazzina di caffè ragazzi, che indica che in effetti in questi anni abbia fatto una specie di struttura di accumulazione, così sembrerebbe ragazzi, anche perché è scesa veramente tantissimo, e in vicino alle strutture di minimo contro Bitcoin, potremmo avere in effetti delle fasi di recupero, per quanto riguarda Atom. Allora, qual è la questione? Allora, già fatto qui il pump, sì è vero, ha breccato questa zona, però non ha breccato livelli di resistenza rilevanti, il primo infatti è qui, quindi 58,9, quindi 59,60, escluso 0 contro Bitcoin, mentre invece la struttura del minimo è a 43,40, quindi questa zona qui, attenzione, perché anche qui vi fa capire la differenza enorme che c'è in termini di price, per esempio già solo da oggi a questo minimo è il 20%, quindi un stop già del 20-30% è il minimo per un'operazione del genere, poi abbiamo un altro livello di supporto che è in questa zona, mentre per quanto riguarda dei livelli di resistenza ulteriori, ce ne sono diversi, uno è qui, cambiamogli sempre il colore, lo mettiamo in verde, poi ci sono gli altri che sono in questa zona, e poi ancora una volta. Allora, vedete come è difficile andare ad agire su queste criptovalute, anche con time frame di un certo tipo, perché hanno delle oscillazioni cosiddette ad ascensore, pump, dump, pump, dump, ok, questo tipo di atteggiamento rende la vita un po' difficile a chi vuole fare l'holding, e il, diciamo, portare per un po' di tempo la coin magari avanti, mentre è più facile, diciamo, da trattare per un trader. In ogni caso, questi spike al rialzo, vedete anche l'altra volta, sono stati poi ricoperti nell'arco di due giornate, interamente, quindi anche un break del genere lascia un po' il tempo che trova. Allora, questa coin come si va a tradare, come si può fare? Si può fare un accumulo nelle zone basse, che vi faccio vedere già direttamente, quindi in questa zona qui, con lo stop loss ovviamente un po' più ridotto, ma sotto questo minimo, oppure attendere un eventuale break, quindi un inizio del trend che è diverso, per poi fare diversi acquisti in breakout magari, e anche in eventuali dip, se avviene una cosa del genere. Questo è il modo corretto, la strategia corretta di tradare questo tipo di cripto. Questa è Atom Cosmos, andiamo a vedere Phantom, Matic la vediamo pure oggi, ma Phantom è la più chiara da questo punto di vista, perché? Perché Phantom ha un trend ben delineato, a ribasso, che può essere invertito dal superamento di alcuni livelli, livelli che proprio sono oggi stati toccati. Questo è il livello in questo momento principale di resistenza, a breccato il quale il cripto potrebbe invertire il trend. Vi faccio vedere anche un disegno che è possibile fare, della canale ribassista, che sta tenendo giù Phantom, dal massimo di ottobre del 2021. Vi ricordo che il trend di questa cripto, è fortemente a rialzo, mettiamola a logaritmica, così vediamo di riuscire a vedere qualcosa, però che abbia praticamente niente, per quanto è rialzista. Quindi qui siamo in un trend fortemente al rialzo, dovesse riprendere anche questo trend, potrebbe dare buoni risultati, magari anche perché no, superare questo livello di massimo. Quindi questa è un'altra cripto che entra in questo portafoglio, e idealmente la terreno sott'occhio. Non ha dato ancora livelli di ingresso, perché non ha superato in break even, scusate, non ha superato in breakout il livello, questa zona qui, e poi soprattutto c'ha anche questo livello del canale, che va assolutamente tenuto in considerazione, quindi potrebbe essere appunto una criptovaluta da attendere un pochettino. Questi sono i due livelli principali, quindi da questa zona in poi potrebbe essere in app, e da questa zona in poi, attenzione, perché potrebbe continuare la sua struttura discendente. Tutti i due giorni, oggi e domani 23 dicembre, per utilizzare il coupon bonus di Trading On, per i corsi, 10% Christmas bonus, e poi fine dei giochi, e poi non mi dite che non ve l'avevo detto, vi faccio rivedere la questione, perché poi se ne parla il prossimo anno, ma probabilmente cambieranno delle cose. Allora, Christmas 10, quindi è il coupon, se volete acquistare il corso, fino al 23 di dicembre, questo è il corso Basic, lo stesso coupon del 10% vale anche per il corso base, scusate, anche per il corso Pro, oltre che al Basic, ragazzi, ma dai, ieri proprio, è attivo anche il corso Starter, potete registrarvi gratuitamente, ho messo alcune lezioni, ovviamente sono per trader assolutamente neofiti, quindi nulla per trader che già fanno queste attività per tanto tempo, questo è un corso dedicato a chi di crypto non sa nulla, a chi vuole entrare in questo mercato, non sa come muoversi, con quale piattaforma, eccetera, inserirò qualche altra lezione gratuita, anche nel corso Starter, ragazzi, però non confendete le cose, il corso Starter non è un corso di trading, per professionisti assolutamente, per quelli ci sono Basic e Pro, allora 10% di sconto, l'ultima chiamata, come si suol dire, fino al 23, andiamo a vedere adesso, l'altra coin della questione, che è Polygon, ragazzi, Polygon, la nostra coin da qualche mese, ci ha dato grandi soddisfazioni, assolutamente, continua la sua scalata contro Bitcoin, ormai ne parliamo da un bel po', ho anche attivato un piano d'accumulo, vi ho spiegato anche come farlo, con un video su FTX, quello che è il mio exchange, per attivare queste cose, si fa nella struttura del QuantZone, vedete l'attivazione, ho fatto anche una serie di test, con questo piano d'accumulo su Matic, interessantissimo ragazzi, andatevi a vedere quel video, anzi ve lo linko sulla mia testa. Bene, andiamo a vedere la questione, per quanto riguarda il trend di Matic, assolutamente rialzista, era la coin preferita da me, Tiziano, o anche qualcun altro, se non sbaglio, e continua a dare grandi soddisfazioni, vediamo quanto dura, anche perché le innovazioni che stanno portando avanti, sono notevoli, e secondo me potrebbero risolvere la problematica legata alla questione di ETH, sembra anche che Uniswap voglia creare l'intera struttura, quindi portarla direttamente su Matic, e quindi in questo caso ridurre drasticamente le famose fee, pagate per le transazioni e il trading in DeFi, che sarebbe diciamo una questione molto utile. Attenzione, questo è l'unico livello di resistenza che abbiamo in questo momento, quindi qui i livelli di ingresso ragazzi sono oggi praticamente al superamento di questo massimo, però ovviamente siamo anche molto alti, siamo anche vicino a questo livello, che è la prima vera resistenza, superato questo ragazzi si entra un trend, quindi Matic Gold in questo momento top, per quanto riguarda questo tipo di fase, insieme anche a Luna per esempio ci sono altre coin, però mi è piaciuta tanto questa cripto e continua a piacere, mi sarà e continuerà ad essere nel mio portafoglio, anche per i primi, se il prossimo anno poi in caso dovesse cambiare trend, io come sapete via 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 me ne svigno alla grande. Bitcoin, ultima criptovaluta, che vediamo oggi, perché anche nella live di ieri è uscita fuori Bitcoin, poppiamo subito da qui andiamo a fare. Allora cosa è uscita nella live di ieri? Una super pump atteso per quanto riguarda Bitcoin, che è lo stesso che ci aspettiamo noi da qualche mese, cioè l'inizio del nuovo ciclo semestrale, inizio del nuovo ciclo semestrale su Bitcoin, che in effetti potrebbe andare a tentare di fare i nuovi massimi storici, se lo fa bene, altrimenti via fuori, Remy imbarca e si scappa ragazzi, perché poi si inverta. Allora questa è l'ultima chiamata, tra virgolette, perché Bitcoin necessita di andare in effetti a riprendere questo nuovo trend sul ciclo semestrale, e questo nuovo trend del ciclo semestrale dovrà darci le risposte, perché se andiamo ad avere un semestrale molto spinto, possiamo in effetti fare nuovi massimi storici, altrimenti no ragazzi, quindi quelli di 69 resteranno. Allora ieri è uscita fuori questa questione, Bitcoin arriviamo di nuovo a 130 e oltre, ok, interessantissimo, ma quali sono i segnali che ci sta dando? Intanto per la prima volta nella giornata di ieri, Bitcoin è riuscito a risalire e a restare con una close di sopra di questa mia media mobile, la media 11 periodi, che indica che nel trend di breve ha avuto un vero rimbalzo, è la prima volta ragazzi, allora da un punto di vista ciclico, dopo il 20 ci aspettavamo la chiusura del ciclo mensile di Bitcoin, quindi era intorno alla giornata proprio del 20, quel ciclo mensile che era strutturato in pratica, oh mio Dio cosa ho fatto, l'ho invertito, era strutturato dal 26 di novembre circa, quindi dopo il 20 andava bene una struttura di chiusura, quindi questa zona qui potrebbe in effetti essere l'inizio di un nuovo ciclo mensile su Bitcoin, però Bitcoin ancora non ha dato segnali, vi anticipo già che la situazione è estremamente confusa per quanto riguarda Bitcoin, ma guardando altre criptovalute, in particolar modo ETH, si possono vedere degli spunti differenti, di questo ne parliamo poi nel classico video aggiornamento della nostra resi ciclica, che avviene ogni lunedì della settimana, e poi ne parleremo successivamente. In ogni caso, dal 20 poi, come si dice ciclicamente, ogni minimo è quello buono, quindi potrebbe essere già iniziata una fase, è un po' prematura, perché ancora fino alla struttura del giorno 27 potrebbe in effetti, vedete, continuare questa fase. Vi faccio anche vedere la struttura del ciclo semestrale di Bitcoin, che qui sono 65 di questa shadow, non mi piace, non la considero, sul minimo più vicino che abbiamo, quello del 18 con una specie doppio minimo fatto appunto proprio il 20, vedete, sono 180 giorni, quindi un classico semestrale preciso al dettaglio, un po' troppo preciso, anche per questo che la questione mi chiama la dovuta attenzione, e mi fa stare in allerta ancora per un intero mese, cioè dal 20, che sia, insomma da questa data, fino ad almeno metà del mese di gennaio sarò allerta. Però, se il mercato dà segnali di long, va tradato. Long ve l'ho già detto, ovviamente negli altri video, eccetera. Perché? Perché se inizia questo nuovo semestrale, il semestrale è un ciclo importante, quindi non è soltanto un mensile, bisogna starci sopra. Quali sono i livelli? Il primo ve l'ho indicato qua, 51.000 dollari. Sopra 51.000 dollari, Bitcoin inverte, e ci chiude sopra ovviamente, inverte il trend di breve periodo, quindi dà segnale di inizio di un nuovo trend, che quasi sicuramente poi conciderà con il nuovo ciclo mensile, e poi, a meno di problematiche, potrebbe essere anche quello che se ne sta, ma ne parleremo insomma. Quindi, un long su Bitcoin, Bitcoin fa il bot, arriva a 100.000, bla bla bla, si ok, ma io entro a 50, perché? Perché siamo a 49, che me ne prega a me, di 1.000 dollari da lasciare al mercato, aspetto un pochetto, e vedo se mi dà un segnale di inversione. Questa è la mia idea, ho fatto una piccola posizione di ingresso, ma di trading, per sistemare delle cosette, in Academy l'ho indicata poco fa, però non è corretta, diciamo, per un atteggiamento di salire sul mensile, per salire sul mensile, bisogna attendere, e vi faccio anche vedere, l'ultima cosa su Bitcoin, che siamo proprio alle prese, con l'ultimo livello di resistenza, importantissimo, questa media, che è quella 22, superata questa media, il mercato, solitamente, può dare grandi soddisfazioni, vedete, perché qui, quando fa una cosa del genere, poi Bitcoin inverte, queste due medie, ci danno un sostegno, poi del trend, quindi, e scandiscono, queste che sono state, le fasi del nuovo ciclo annuale, che sono state, quelle dei mensili, e dei trimestrali, di Bitcoin. Quindi, molto interessante, il superamento di questa media, è un bel segnale, quindi, intorno ai 50. Va bene, per oggi è tutto ragazzi, quanta roba, quanta roba, anche nel video di oggi, fatemi sapere, anche voi, se siete log su queste coin, quale vi piace di più, di queste crypto, che sono uscite fuori, in questa live natalizia, dei crypto Avengers, vi piacciono meno, dove state puntando, e soprattutto, che ne pensate, dei target, di Bitcoin, questi, nuovi massimi, in questo ciclo senestrale, li facciamo, beh, vedremo, nel prossimo anno, per oggi è tutto, noi ci vediamo, nel prossimo video, ciao!